Siamo giunti al venticinquesimo appuntamento del settembre culturale al castello nelle giornate europee del patrimonio. Questa sera è di scena il canto degli eroi, variazioni sul mito, concerto a cura del centro di musica antica di Napoli, pietà dei turchini e recitazione di Peppe Barile. Per questo venticinquesimo appuntamento in occasione della seconda giornata del patrimonio non potevamo celebrare al meglio questo importante appuntamento con questa recitazione di Italo Calvino e questa musica barocca. Quindi è un programma variegato, quello del settembre culturale, che non si limita soltanto alla presentazione di libri ma è anche spettacoli musicali, spettacoli teatrali e un'offerta veramente unica e varia sicuramente in tutta la provincia di Salerno e nell'ambito regionale. Il centro intanto è ben fiero di poter portare fuori dalle mura di Napoli delle esperienze musicali che sono state pensate e progettate per questa rassegna e la funzione particolare è quella di riscoprire, valorizzare e rendere chiaramente più diffuso possibile il repertorio napoletano tra 6 e 700 e attraverso tutta una serie di attività che partono dalla ricerca musicologica, all'esecuzione musicale, alla formazione di giovani musicisti, cantanti. Quindi in qualche modo stasera c'è un frutto di un lavoro fatto in questi anni anche di formazione di giovani strumentisti e cantanti. Concerto che quindi abbiamo scelto anche in virtù delle mie caratteristiche tenendo conto del titolo che ha voluto dare l'associazione cioè incentrata sulle eroine, le regine del repertorio 6-700esco sia napoletano che internazionale. Dico internazionale perché oltre a scegliere brani di Scarlatti, di Pergolesi abbiamo scelto anche un brano di Parcel da Didone e Denea. Noi siamo un gruppo che si è costituito nel 2006 in seno proprio al centro di musica antica Pietà dei Turchini con la voglia di proporre soprattutto il repertorio napoletano al grande pubblico e quindi di far sì che la musica antica possa essere maggiormente conosciuta, maggiormente ascoltata da qualsiasi tipologia di pubblico. Antico perché noi suoniamo su strumenti originali, strumenti che comunque venivano adoperati anticamente nel 600-700 con delle caratteristiche specifiche, con corde di budello, arco barocco. Quindi noi cerchiamo anche con una prassi dedicata di interpretare in modo più vicino come si faceva anticamente. Il suono come richiamo delle emozioni dell'anima, per questo la musica antica basata sulla teoria degli affetti deve emozionare sempre di più. Quindi un gruppo giovane per dei giovani che ascoltano musica. La musica barocca speriamo che arrivi a tutti, a partire anche dai più giovani, insomma è un motivo di grande divulgazione culturale e quindi noi speriamo che inizi dai giovani. Io lo spettacolo l'ho intitolato Dall'opaco, senza l'apostrofo, dove Italo Calvino racconta il paesaggio che lui guardava dalla sua finestra in Liguria e lo descriveva e descrivendo questo paesaggio, anche con linee geometriche, mano a mano si rendeva conto, indietreggiando, lui guardava l'aprico, l'aperto, il sole e si rendeva conto che si trovava sempre sulla linea che separa la luce dall'ombra. Lui era sempre nell'opaco, cioè alla fine considera che il vero mondo è l'opaco, perciò è dall'opaco che lui scrive questo racconto. La maschera si trova sulla linea che separa la luce dall'ombra e quindi guardando in faccia la maschera tu guardi verso l'opaco e mettendo la maschera guardi verso l'aprico, verso l'aperto, il sole.